Nell'epoca della terza globalizzazione l'Italia boccia l'Europa, solo il 36% degli italiani ha fiducia nell'Unione, mentre il 51% pensa che abbia fatto male. L'accusa silenziosa e chiara non ci ha aiutato, anzi ci danneggia. E quanto viene fuori dal rapporto sulla situazione sociale del paese, del Censis? Oggi gli italiani che giudicano con senso positivo l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea sono il numero più basso in Europa. Addirittura siamo sotto la Grecia della Troica e sotto il Regno Unito della Brexit. Nel 2017 il nostro paese è ancora di sotto dell'asticella del PIL raggiunto nel 2010 e al 99,7%. In pratica arranchiamo per ritornare al paradiso perduto. Un dato confermato dal voto del 4 marzo scorso, letto dal Censis, come un grido d'allarme. Il voto del 4 marzo in qualche modo con la società italiana esprime il desiderio di un cambiamento di passo, di un cambiamento profondo, di una discontinuità nei processi di sviluppo. L'Italia diventa non solo una nazione di vecchi ma di single, persone sole e non anziane, circa 5 milioni. Cambia la famiglia, raddoppiano rispetto al 2006 divorzi e diminuiscono i matrimoni in chiesa, il 33,6% in meno. Negli ultimi dieci anni abbiamo 1.400.000 giovani lavoratori in meno. Naturalmente questo è in parte dovuto a un effetto del declino demografico che abbiamo alle spalle, per cui si riducono le corti di giovani, ma non dipende solo da questo. Contemporaneamente abbiamo avuto una crescita di oltre il 70% negli ultimi dieci anni dei lavoratori con più di 55 anni. Si è formata così una società che ha paura, cattiva verso chiunque può portare via quel poco, che non è poco, che ci resta. Una nazione che si rifugia nel sovranismo, uno stato sociale, non un fenomeno di passaggio. Io credo che sia un errore fatale liquidare il fenomeno del sovranismo come un fatto puramente intenzionale di alcuni movimenti politici. In realtà è un fenomeno che ha profonde radici sociali, è un sovranismo psichico prima ancora che politico, radici sociali che dipendono dalle bassissime prospettive di crescita individuali e collettive. Ogni paese vive la globalizzazione a modo suo rispettando le radici ancestrali, l'Inghilterra scappando via con la Brexit, la Francia con le proteste violente dei gilet gialli, l'Italia con cattiveria e zizzania.